Oggi scopriamo insieme come è facile organizzare le proprie spese familiari grazie al nuovo internet banking di Banca di Asti. Grazie alla funzione di PFM è possibile indirizzare i propri pagamenti sulle categorie più adatte. Facciamo un esempio. Posso raggruppare tutte le spese del supermercato nella categoria Food Spesa. Farla è molto semplice. Seleziono il movimento nell'elenco Spese senza categoria e lo associo alle categorie Food Spesa. Confermo la categoria e ritroverò la home page aggiornata. Il widget Categorie mi permette di non pensarci più. Posso infatti scegliere un movimento dal conto corrente e creare una regola che indirizza automaticamente quel movimento su una categoria. Hai visto come è semplice? Segui il canale YouTube di Banca di Asti e scopri tutte le novità.